Nell'estate 2020 ci sarà il problema del distanziamento sociale, farlo mantenere nei locali sembra facile, è stata data la responsabilità ai gestori e ai titolari delle strutture, ma nelle spiagge libere e negli ambienti pubblici come si dovrà fare? Ci sono delle problematiche, ci sono anche dei problemi di numeri e di organico, come nel caso di Melendugno dove i vigili già da tempo sono chiamati a doppi turni e questa la protesta da parte del sindaco del comune salentino Marco Potì. Io ho in organico otto vigili, compreso il comandante, hanno fatto in questi periodi di lockdown dei turni massacranti, di straordinari o doppi turni per cercare di far mantenere le disposizioni del governo e anche sabato e domenica scorsa avevo tre vigili che hanno fatto mattina e pomeriggio. Io così potrò fare poco e più che altro non posso continuare per tutta l'estate. Le alternative che in questi giorni vengono proposte dal ministro Boccia o anche dal governo non convincono però appieno gli amministratori del territorio salentino. Quindi due sono le cose, o si spera tutti quanti che le misure siano allentate perché i contagi sono zero e abbiamo scampato il pericolo e la paura del coronavirus oppure in maniera forte più prudenziale e più realistica dobbiamo adoperarci per far mantenere il distanziamento sociale perché è lì che si gioca tutto, il distanziamento sociale. E proprio per far fronte a questa emergenza dai comuni costieri del territorio salentino arrivano due richieste. Io come tanti colleghi siamo perplessi con il volontariato, con il reddito di cittadinanza, non si riesce a fare quel tipo di servizio, servono professionalità. Ci dessero ai comuni, le prefetture, lo Stato insomma le risorse umane, forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guarda di finanza o capitoleria di porto sulle spiagge oppure dessero le risorse ai comuni i soldi veri, non anticipazioni come sono state fatte finora. Infine c'è anche un'idea rivolta alla Regione Puglia che possa coinvolgere tutti i 400 chilometri di costa del nostro splendido territorio. Auspicherei un'app, un'applicazione per l'accesso alle spiagge libere unica per la Puglia, magari finanziata da Regione Puglia, in modo che tutti i comuni costieri possono eventualmente utilizzare questa applicazione.